Bene per oltre 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati a 19 persone dai militari delle fiamme gialle di Foggia che hanno eseguito un'ordinanza decautelare emessa dal GIP presso il Tribunale d'Auno a carico di persone residenti tra le province di Foggia, Vellino e Napoli, nonché in Polonia e Croazia, denunciate per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando internazionale di prodotti energetici e alcolici. Le indagini dirette dalla Procura Foggiana e dall'Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria penale avrebbero evidenziato che in Capitanata era radicato un sodalizio criminale con connessioni all'estero che si occupava di contrabbando di prodotti energetici ed alcolici. In particolare sarebbero stati commercializzati, evadendo le tasse, gasolio agricolo in favore di persone prive dei requisiti prescritti per legge, ma anche solventi per vernici di produzione estera destinato illecitamente all'autotrazione. Alcol etilico proveniente dalla Polonia è falsamente dichiarato come disinfettante destinato all'uso alimentare. Le indagini hanno individuato in Polonia i terminali del sistema di frode transnazionale, per questo la Procura di Foggia ha immediatamente attivato un canale di cooperazione con i corrispondenti organi inquirenti polacchi. La collaborazione internazionale è stata determinante perché ha portato ad accertare che le società coinvolte nei traffici illeciti sarebbero state prive delle strutture amministrative ed operative. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che si trattava di aziende meramente strumentali al sistema di frode. Nel corso delle indagini sono state effettuate sequestri di oltre 448 mila litri di prodotti energetici, 25 automezzi e due depositi. Il sequestro è stato anche di tipo patrimoniale ed economico per quasi 4 milioni e mezzo pari alle tasse evase.